vaccini pediatrici partito il nuovo hub delle cinque torri effettuavano tamponi in tre minuti denunciata farmacia di senigallia pesaro ora dice no a ogni take away nel cardo e decumano capitale della cultura pesaro al rush finale dell'ultimo mese a sanremo il pesarese bernardini acconcia agli artisti del festival buonasera e benvenuti al nostro telegiornale di oggi oggi è mercoledì 2 febbraio e apriamo questa edizione occupandoci di un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale anti covid questo pomeriggio infatti sono e cominciate le vaccinazioni ai bambini fra i 5 gli 11 anni anche al distretto asur pesarese delle cinque torri mercoledì 2 di febbraio da oggi si amplia e si potenzia la campagna di vaccinazione anti covid per quello che riguarda la fascia pediatrica tra i 5 e gli 11 anni campagna di vaccinazione bambini che è partita a dicembre e che dopo i punti dedicati della casa della salute di valle foglia degli ospedali di urbino e di muraglia ora ha una nuova struttura dedicata qui al centro di vaccinazioni della struttura asur delle cinque torri in via nanter da sempre centro vaccinazioni infantili ora anche punto vaccini anti covid qui ogni mercoledì per quello che riguarda febbraio e marzo vengono convogliati soprattutto i pazienti dei pediatri in particolare il centro sarà coordinato dai dottori stefania tiberi eleonora bartolucci bruno arcangeli e mauro mancino sono anche i pazienti di noi pediatri ma anche di altri pediatri cioè tutta la popolazione pediatrica può registrarsi sul sistema poste e prenotare un appuntamento qui quindi è aperto a tutti non solo ai nostri singoli pazienti la situazione direi che ha avuto una risposta molto molto positiva sono molte le famiglie che richiedono la vaccinazione di questa fascia di età 5 11 anni e quindi questa collaborazione che c'è fra i pediatri di famiglia e la ASL direi che è un bel passo avanti perché prima dovevamo fare queste vaccinazioni singolarmente nei nostri ambulatori e quindi avevamo delle limitazioni invece in questo contesto abbiamo un'infermiera un'assistente sanitaria abbiamo tutta una struttura che ci consente di lavorare in maniera molto più efficiente e anche molto più numerosa quindi questo è un bellissimo passo avanti e le famiglie hanno dato una bellissima risposta perché sono molti le adesioni e penso che anche le prossime settimane avremo di che fare noi cerchiamo di collaborare alla campagna vaccinale e devo dire in questo momento per noi particolarmente difficile visto tutte le altre situazioni che ci sono soprattutto del carico burocratico a cominciare dal T0, T5, le ricettazioni che stanno facendo pesare molto sulle famiglie il carico di questo momento quindi noi cerchiamo di collaborare con il sistema sanitario per alleviare i problemi delle famiglie volevo solo aggiungere che la campagna vaccinale pediatrica che è cominciata il 20 dicembre è stata veramente un successo già dai primi giorni e la aderenza alla vaccinazione è stata superiore agli adolescenti quindi noi veramente siamo molto molto contenti di questo e vorremmo ampliare il più possibile la popolazione pediatrica vaccinata per tenere le scuole aperte e avere poi tutte le agevolazioni Giornata di calo sia dei contagi che dei ricoveri nella nostra regione Marche sono infatti 4.911 nuovi contagi di cui 1.075 nella provincia di Pesaro Urbino per un'incidenza che si abbassa a 2.231 casi ogni 100.000 abitanti dopo il balzo in avanti di ieri torna invece a scendere di 16 unità i ricoveri passando da 408 a 392 di cui 58 pazienti in terapia intensiva 7 i decessi registrati oggi fra cui una donna di appena 41 anni di Castelfidardo Ed ora parliamo di un'indagine della Guardia di Finanza di Ancona che ha portato a scoprire pensate una farmacia di Senigallia in cui venivano processati tamponi rapidi con un tempo di diagnosi di circa 3-4 minuti una tempistica reputata non attendibile in quanto la procedura standard richiede almeno un quarto d'ora per una diagnosi adeguata alla rilevazione di positività o negatività al Covid-19 una condotta studiata per massimizzare l'afflusso di clienti alla farmacia che ha portato a denunciare i due titolari per falso ideologico incertificati in adempimento di contratti di pubbliche forniture e percezione di contributi a carico dello Stato per quel che riguarda i tamponi a prezzi calmierati per ragazzi Ed ora torniamo a Pesaro perché ha fatto discutere nei giorni scorsi il nuovo regolamento sul decoro urbano del centro storico di Pesaro in merito a nuove aperture con polemiche particolarmente focalizzate su bazar e cibi da sporto etnici Oggi l'assessore all'innovazione Francesca Frenquellucci ha annunciato un rafforzamento di questo regolamento con il divieto di nuove aperture di ogni genere di take away alimentari piatti italiani compresi fra Piazza del Popolo, Piazzale Lazzarini, Via Branca, Via Rossini Corso 11 settembre e Via San Francesco Dunque no a nuove pizzerie, frigitorie o rosticerie che non dispongano di posti a sedere e servizio al tavolo L'obiettivo, secondo la Frenquellucci è quello di avere un salotto della città sempre più luminoso e con minor impatto di rifiuti Ve ne abbiamo dato notizie ai giorni scorsi Pesaro è tra le dieci città finaliste per il traguardo a Capitale della Cultura 2024 Nel prossimo servizio cerchiamo di capire le strategie per questo ultimo mese che ci divide dal verdetto di inizio marzo e quali sarebbero tra l'altro gli eventuali benefici di questa vittoria Il 3 e 4 marzo le dieci finaliste alla candidatura Capitale della Cultura 2024 presenteranno la loro relazione definitiva davanti alla giuria del Ministero della Cultura Da pochi giorni Pesaro è entrata nella short list delle dieci finaliste assieme alla Corregionale Ascoli Piceno oltre che a Vicenza, Chioggia, Grosseto, Viareggio, Sestri Levante, Pestum, Mesagne e Siracusa Pesaro dunque si tuffa ora anima e corpo nel rush finale di un mese che completerà un lavoro che è stato capillare sul territorio allargato l'intera provincia e sviluppato fra la creatività dei quartieri cittadini Siamo fiduciosi su questo mese importante che si aspetta prima delle audizioni lavoreremo a rimotivare ulteriormente tutti la rete degli artisti dei comuni, dei territori che hanno partecipato, dei 50 comuni della provincia a questo progetto e a battere su quelli che sono gli elementi cardini ovvero una candidatura basata sul patrimonio culturale sul tema della sostenibilità il tutto legato però anche dall'innovazione tecnologica e digitale e su questo il progetto di Sonosfera sia nel suo racconto legato ai cambiamenti climatici rispetto al racconto di Raffaello con il suono in digitale in Sonosfera sono sicuramente due progetti cardini e due elementi simbolo Alla capitale della cultura sarà destinato un milione di euro dal fondo per lo sviluppo e la coesione ma il comune di Pesaro è pronto ad investimenti ben più corposi di fronte alle prospettive di visibilità e sviluppo territoriale che comporterebbe una simile vittoria oltre al tema che è previsto un contributo di un milione per le attività culturali che abbiamo già deciso di destinare in grande parte al territorio provinciale e quanto questa cifra e comunque diciamo questo movimento può creare in termini di moltiplicatore, di risorse tant'è che il budget complessivo della manifestazione per quello che ci riguarda per il 2024 abbiamo inserito una cifra di 6 milioni nel budget di previsione del progetto perché appunto si considerano tanti moltiplicatori dati dall'apporto dei festival, date da le sponsorizzazioni date da altri canali di intervento che danno un po' questa misura quindi già questo dà l'idea di un anno straordinario che tutto il nostro territorio provinciale potrebbe vivere inoltre c'è un tema naturalmente di visibilità dato dalle coperture televisive dal racconto, dagli speciali che vengono dedicati dal fatto che la città capitale diventa come dire un po' l'ambasciatrice anche dell'Italia nella promozione all'estero come in questi giorni con Procida come è stato con Parma fino a poche settimane fa insomma si rischierebbe di essere per un anno una sorta di seconda capitale italiana con il rieletto presidente Mattarella pronto a far di nuovo Capolino Pesaro dopo la sua presenza all'ultimo Rossini Opera Festival Novità importanti per le scuole marchigiane arrivano infatti 21 milioni di euro dal PNRR per la messa in sicurezza e l'innovazione degli edifici scolastici come ci spiega in questa prossima intervista l'assessore regionale e lavori pubblici Francesco Baldelli 21 milioni di euro circa 20 milioni 700 mila euro per la messa in sicurezza delle nostre scuole caliamo a terra le risorse del PNRR destinate alla regione Marche per l'edilizia scolastica e lo facciamo per una scuola che guarda al futuro e non più al passato quindi con una serie di innovazioni alcune le diamo per scontate ovviamente sono requisiti richiesti dallo stesso ministero quindi miglioramento, adeguamento sismico e efficientamento delle nostre strutture mediante la riqualificazione delle strutture esistenti o la demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici della nostra regione i destinatari sono sia i comuni che le province per quota parte del finanziamento per le scuole di ogni ordine e grado che cosa ha voluto fare di più la nostra regione? appunto per questa scuola che guardi al futuro la scuola come luogo di aggregazione principale delle nostre città e dei nostri comuni quindi una scuola che si apre al contesto urbano si inserisce nel contesto urbano e vuole anche spazi didattici spazi didattici all'aperto attrezzati e non che siano utili anche per le attività sportive e ricreative dei nostri ragazzi noi attendiamo nel giro di brevissimo tempo nella filosofia dei tempi dettati dal ministero proprio per calare a terra le risorse del PNRR le idee progettuali dei comuni con un cronoprogramma e un costo economico indicato dagli enti che beneficeranno del contributo a quel punto sapremo quanti e quali istituti potremo andare a finanziare abbiamo messo quale requisito fondamentale la ventilazione meccanica controllata che tanto utile è per combattere la pandemia per garantire ambienti salubri agli operatori e ai nostri ragazzi ma c'è qualcosa di più anche i rilevatori di CO2 nelle classi per comprendere la concentrazione di adenidride carbonica negli ambienti vissuti dagli operatori e dai ragazzi domani alle 10.30 nella chiesa di Montecchio si terranno i funerali di Ruggero Berarducci apprezzato insegnante di lettere sindaco socialista di Sant'Angelo in Lizzola dal 1975 al 1981 Berarducci si è spento nella sua casa di Montecchio all'età di 79 anni per un lutto che ha commosso il territorio di Pian del Bruscolo dove fu sempre parte attiva della vita comunitaria Ruggero Berarducci lascia la moglie Giuseppina i figli Filippo e Monica e quattro nipoti Open Day anche quest'anno non in presenza per i futuri iscritti all'Università di Urbino questa mattina però è partita con grandi numeri di partecipazione la 26esima edizione di Università Aperta evento di orientamento all'Ateneo che si sta svolgendo online alla presenza da remoto di ben 3.000 iscritti studenti che fino a venerdì 4 febbraio possono consultare online le presentazioni delle offerte formative dei 37 corsi dell'Università venerdì 4 febbraio è previsto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico Adria Bus avvisa dunque l'utenza che potrebbero non essere garantite tutte le corse comprese nella fascia oraria tra le 11 e le ore 15 così come l'ufficio informazioni potrebbe sospendere il servizio per le ultime 4 ore del turno saranno comunque garantiti servizi per disabili e servizi scuola Bus Ci sono eccellenze industriali nel nostro territorio che continuano ad essere apprezzate in tutto il mondo una di queste è la Fontana Forni di San Lorenzo in Campo che si è appena giudicata uno dei prestigiosi premi di design a livello internazionale Le eccellenze industriali di Pesero Urbino continuano a farsi valere ai più alti livelli planetari E' il caso di Fontana Forni, storica azienda di San Lorenzo in Campo leader nei prodotti di cucina a legna e a gas che ha vinto il Good Design Award vale a dire il più antico riconoscimento internazionale in fatto di innovazione progettuale ed estetica Lo ha vinto grazie a Piero, nome del forno che garantisce il passaggio da fuoco di legna a gas in modo immediato il tutto con un design elegante valso il prestigioso premio che per i concorrenti europei verrà consegnato quest'estate ad Atene E' un grande premio di prestigio noi lo vediamo un po' da un punto di vista come il coronamento di un impegno aziendale ma anche come una promessa per fare ancora meglio nel futuro Il Good Design Award è probabilmente assieme al compasso d'oro il premio più prestigioso che abbiamo al mondo Di sicuro è quello più antico perché è stato creato moltissimi anni fa dalla Università di Architettura di Chicago Chicago è la città dell'architettura è la città dove i più grandi architetti al mondo si sono sbizzariti facendosi in concorrenza l'un l'altro nella costruzione e nella creazione di grattacieli fantastici probabilmente Chicago rappresenta uno dei più bei skyline al mondo dal punto di vista architettonico E' iniziato il festival di Sanremo e per la sesta volta alla Kermesse Canora c'è ancora il pesarese Lorenzo Bernardini nel team di Airstylist che si occupano delle acconciature degli artisti in gara Oggi l'abbiamo intervistato telefonicamente dalla Città dei Fiori Il 72esimo festival di Sanremo ha cominciato ieri sera da sei anni nella Città dei Fiori, Ligure, c'è anche Lorenzo Bernardini noto Airstylist pesarese che debutta però la seconda serata dopo che questo impegno è coinciso con un altro servizio che ti vede occupato Sì, infatti sono in ritardo di un giorno quest'anno su Sanremo a differenza degli altri anni proprio perché avevamo Claudio Baglioni in zona che era in Ancona al Teatro delle Muse Senigallia alla Fenice quindi siccome lo seguo personalmente per tutti i suoi eventi quando è in zona sono dovuto rimanere con lui Finito l'uieri sera, sono partito stanotte sono appena arrivato qui a Sanremo Sanremo sicuramente l'evento diciamo che a livello sia mediatico che di tutto è quello che ha più risonanza a livello nazionale l'evento più grosso che abbiamo in Italia quindi è un'emozione anche perché poi fin da bambino ero lì incollato durante il televisore a vedere Sanremo e da qualche anno potermi trovare dietro su quel palco dietro le quinte l'emozione è sinceramente veramente forte Ecco, l'hai vissuta nell'epoca normale diciamo così pre-pandemia questa è la prima volta con le dinamiche di Covid che diciamo comporteranno degli accorgimenti particolari soprattutto su quello che riguarda la vostra presenza all'Ariston Sì, questo sicuramente infatti guarda, l'anno scorso a causa Covid infatti non sono venuto quest'anno è il primo anno dopo la pandemia ma lavoreremo con molte restrizioni quindi non saremo all'interno dell'Ariston li prepareremo i cantanti verranno per cantanti anche ospiti tutti verranno pettinati, truccati e anche vestiti nelle varie camere di hotel e vanno direttamente entreranno a teatro già pronti e avranno un percorso loro da fare in mascherina proprio FFP2 poi salgono sul palco cantano e appena riescono di nuovo mascherina e vengono raccompagnati nelle proprie camere e allora davvero complimenti a Lorenzo Bernardini adesso andiamo con la programmazione su Rossini TV perché questa sera torna una nuova puntata di qua alla Zampa Giacomo Lucchetti con la sua cagnolina e Antonio Astuti ci porteranno alla scoperta di tante informazioni utili per chi ha cani e gatti o chi li vuole adottare ad esempio al canile o al gattile quindi l'appuntamento è alle 21.20 e poi domani vi ricordiamo la consueta nostra rassegna stampa la lettura dei titoli dei quotidiani locali in diretta alle 7.20 mentre domani torna una nuova puntata di Insieme a Canestro saremo in diretta alle 21.20 e grazie appunto alla diretta televisiva voi potrete partecipare attivamente al nostro programma mandandoci messaggi su Whatsapp oppure commentando nella nostra diretta Facebook per avere la possibilità di ricevere dei biglietti in omaggio gli ospiti di domani saranno Doron Lamb che è ala della VL e poi Marco Aloi responsabile del marketing della Lega Basket con il quale parleremo in modo particolare delle Final 8 grazie per averci seguito adesso per voi c'è il meteo mettete mi raccomando like alla nostra pagina Facebook e seguiteci anche su Instagram per essere informati sempre sulla nostra programmazione